secondo step passiamo alla preparazione ho delle rondelle di cipolla che metto all'interno di questa padella dove ci ho messo un filo d'olio sto tagliando i miei pomodorini piccadilli che poi andrò a buttare una volta che metterò prima un paio di filetti di acciughe che adesso in diretta vi faccio vedere quindi primo step olio in padella cipolla a rondelle e qualche filetto di alici pomodorini piccadilli e al prossimo step per la seconda preparazione quella con olive capperi e sgombro ciao